Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. L'ex di Uomini e Donne ha gelato i suoi fedeli sostenitori attraverso una dichiarazione del tutto inaspettata sulla fine del suo matrimonio. L'ex di Uomini e Donne, visto il grande seguito che ha sui social, ha scelto di rispondere alle curiosità dei suoi fedeli sostenitori rivelando come stanno andando le cose dopo il suo divorzio. Non è un mistero infatti che l'ex corteggiatrice abbia detto addio a suo marito. I due si sono conosciuti proprio durante il corso del trono classico diventando una delle coppie più amate del programma di successo di Maria De Filippi. Purtroppo però le cose spesso non vanno come vorremmo e i due dopo numerosi anni di amore hanno deciso di dividere le loro strade. Cristian e Tara di Uomini e Donne si sono lasciati e lei sui social ha ammesso di essere rinata dopo la fine del matrimoni, rivelando il motivo di questo processo che si è innescato in lei. Tara e Cristian di Uomini e Donne, lei rompe il silenzio dopo la separazione. Cristian Gallella e Tara Gabrieletto sono tra le coppie storiche formatesi negli studi di Uomini e Donne, ma purtroppo la relazione non è riuscita a durare nel tempo come entrambi avrebbero voluto e lei negli scorsi giorni ha deciso di rompere il silenzio sui social rivelando che cos'è successo dopo questo momento difficile che ha vissuto. L'ex corteggiatrice del trono classico si è sentita rinata dopo la fine del suo matrimonio, mentre quello di una collega, nonostante i gossips una crisi di coppia, sta proseguendo a gonfie vele, e a chi chiede come sia accaduta questa evoluzione lei risponde così. Si rinasce, non c'è un libro che te lo spiega, ha spiegato Tara senza troppi giri di parole. Viene tutto da solo, ha poi aggiunto, quando inizia ad amarti a mettere te stessa prima di tutto le cose vengono da sole giorno dopo giorno, ha poi concluso rivelando com'è successo il tutto dopo la fine del matrimonio. Cristian e Tara si sono detti addio e dopo un momento di difficoltà a lei è riuscita a riprendere in mano le eredini della sua vita. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.